Pescara e Milano-Linate di nuovo collegate dall'Italia. Il volo sarà ripristinato il 28 di ottobre, dopo che era stato sospeso per tre mesi a causa di lavori nell'aeroporto Lombardo. Saranno quattro gli aerei che ogni giorno percorreranno la tratta Pescara-Milano. La riapertura di questa storica rotta festeggia il presidente della saga Enrico Paolini, conferma e rilancia le potenzialità dell'aeroporto d'Abruzzo. Benché la perdita di circa 20.000 passeggeri per la chiusura di Linate, nei primi otto mesi del 2019 l'aeroporto d'Abruzzo ha registrato un aumento di utenti di oltre il 7%. La crescita del nostro scalo, ha dichiarato Paolini, ha convinto la compagnia di bandiera l'Italia valorizzando le potenzialità del nostro aeroporto. I biglietti per Linate sono già acquistabili, adesso la strada è quella di consolidare la presenza di hub intercontinentali e di ripristinare il volo da e per Torino.